Fiera Antiquaria di Luglio che ci dicono gli Antiquari rimane una zona molto dimenticata. Che ne pensa di questo progetto di rilancio dell'Antiquaria del Comune? Poi l'anno prossimo ci saranno i 50 anni, ma insomma tutte queste iniziative collaterali che dovrebbero un po' aiutare la manifestazione? Per me non aiuto la manifestazione, è una cosa che sicuramente passa in secondo ordine il discorso di questi optional, non dico niente ma un pezzo là. Questa strada qui che è un po' disastrata, che per noi qui è sempre così, cambia poco. Quindi insomma ci si concentra più, ci si focalizza più su Piazza Grande e le altre strade rimangono un po' dimenticate? Questa sì, questa è proprio diventata, siamo gli ultimi qui, non arriva quasi mai nessuno. Per niente bene, ma perché c'è un pubblico che secondo me non risponde bene alle vendite, cioè poche richieste, quindi poco interesse. Sicuramente una gente che non è, secondo me come espositore sono tanti anni e faccio questo lavoro, non viene qui espressamente per il mercato ma nel contesto. Una cosa che le riscontra solo ad Arezzo o anche in altre antiquarie? No, diciamo che più che altro Arezzo è fra tante fiere, forse non è la peggiore come quantità di persone che arrivano e via dicendo, però devo dire che qui qualità e prezzo credo Arezzo sia una delle migliori insieme a Lucca, faccio per dire, però altri mercati sono nettamente inferiori. Speriamo che ora con il Saracino di settembre, che si pone tutto in un'altra condizione, diciamo, logistica, vada meglio. Oggi non va bene. Senta, qui ci sono una serie di eventi, insomma, che la manifestazione ha organizzato, no? Li conosceva? Io penso che oggi fanno due cose, dovrebbero farne una per volta. Più eventi tutti insieme? Qualche domenica niente. Come va questa antiquaria di luglio? Oh, dovrebbe essere gratis questa antiquaria di luglio, come tutte le antiquarie. Siamo fra luce del muro. No, ma veramente, andrebbe fatta gratis, in modo che la gente venga un po' di più a porta a Roma. Ascolta, non c'entra il gratis. Io sono il più vecchio della Piera d'Arezzo, sono il più vecchio. L'ho fatto tutti, sono 500, 600, l'ho fatto tutti. Dalla prima, un è il vecchio, non c'è più la stoffa nell'Italia, i soldi, il sistema. No, i soldi ci sono, loro spendono 500 euro per prendere un telefonino, che dura un anno, è un oggetto d'arte, che dura una vita, non lo vogliono. I mobili c'è un magazzino che va al topo pieno, non si vende niente, vanno a pigliare l'eritrea, l'eritrea, verniciati. A me è un meccarbone. L'ho venduto due tavoli rustici oggi, ma... Quello lì era bellissimo. L'ho venduto. Quanto l'hai venduto? L'ho venduto per poco, se non te le capita le mani. Quanto l'hai venduto? Insomma, bisogna svendere. Comunque l'altro. Bisogna svendere. Regalati. Ma quello lì era... Bisogna svendere, dico. Bisogna svendere. E il mio piglio glielo giuro io. Il mio piglio non lo vogliono nemmeno per regalare. Ma i che lo prendono. Ah beh? Ma i che lo prendono. Senta, ma ha visto che oggi c'è il raduno, ha visto che oggi c'è il raduno dei dendi? Lei sa cosa sono i dendi? Eh? Eh, a me ne penso bene. A me ne capa più che t'accento qui che di moderni di ora. Senta, ma ha visto che oggi c'è il raduno dei dimenti di ora.